È un libro sublime, audace, ma anche scoraggiante, il libro di Giobbe, e a decifrarlo per noi da oggi, il Cardinal Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Città. Eminenza, lei lo sa, il regalo che fa al mondo, eh? Avendo detto sì anche alla terza stagione, come del tempo si spera. Io mi sono soffermata a ripetere definizioni di questo libro fatte ovviamente da altri. C'è di tutto un po' nel libro di Giobbe, c'è la nostra vita. Sì, è vero. Io vorrei partire però con una immagine di una grande figura di interprete della Bibbia, anzi è stato uno dei grandi traduttori della Bibbia, colui che ha permesso che la Bibbia passasse dalle lingue originarie, che era l'ebraico e il greco, ed entrasse nella lingua che allora era la popolare, cioè il San Girolamo, che ha tradotto in latino e la sua Bibbia è stata chiamata proprio la Vulgata, quella per il volgo, per il popolo. Ebbene lui, quando si trova a tradurre Giobbe, si trova palesemente in difficoltà, ma soprattutto aveva una certa genialità lui e cerca di comprendere qual è il significato vero di questo libro, al di là delle apparenze. Sarà un po' il compito anche rispondere a quella sua introduzione, qual è il senso, quali sono i percorsi. E lui usa un'immagine, dice Cercare di interpretare, di spiegare Giobbe è come stringere tra le mani un'anguilla o una piccola murena. Quanto più tu la premi, tanto più ti sfugge di mano. Ecco la difficoltà di ogni interprete per questo libro. E un compito mio sarà all'inizio quello di smentire certe interpretazioni. Perché purtroppo, Eminenza, lei subito è inquadrato, si fa un gran parlare a volte di questo libro senza entrare poi nella profondità di quello che è scritto. Eminenza, se lei permette, vogliamo entrare intanto proprio anche nella poesia e nella prosa di questo testo. E allora io ringrazio e saluto Piero Bernacchi. E l'introduzione, poi dopo sfoglieremo pagina per pagina. Piero Bernacchi. C'era nella terra di Uz, un uomo chiamato Giobbe. Uomo integro e retto. Temeva Dio ed era alieno dal male. Gli erano nati sette figli e tre figlie. Possedeva settemila pecore e tremila cammelli. Cinquecento paia di buoi e cinquecento asine. E molto numerosa era la sua servitù. Quest'uomo era il più grande fra tutti i figli d'Oriente. Eminenza, sembra quasi l'incipit di una favola. E' vero questo. Si tratta proprio di un racconto esemplare. Anzi, cominciamo subito col dire che Giobbe non è un ebreo. è un uomo della terra di Uz. Non sappiamo esattamente dove sia. Probabilmente era il deserto orientale, l'area che è occupata in pratica dalla Giordania meridionale attuale. Quindi è uno straniero il protagonista di questo libro, che è uno dei libri in assoluto che ha attormentato di più la tradizione ebraica e cristiana. Secondo luogo, noi abbiamo sentito in questa, che è come il titolo diremmo del racconto iniziale, abbiamo sentito che è uno sceico, uno sceico orientale. Avete sentito i numeri, i numeri ampli del suo benessere vero e proprio, direi, visir, patriarca, che ha davanti a sé questa distesa di cabelli, di mandri e di figli e figlie anche. Ma soprattutto, ecco, qui ritorniamo, quella parola sembra l'inizio di una fiaba. Lo è effettivamente. E questa fiaba, chiamiamola così, gli studiosi parlano di un tale, di un racconto. Ebbene, questa era diffusa in Oriente. L'autore del poema che segue, sottolineo questa parola poema, usa questo racconto in prosa, come avete sentito, per fare la cornice. E la cornice è all'inizio, i primi due capitoli che leggeremo oggi, almeno leggeremo dei frammenti, e la finale. Questa cornice, purtroppo, è stata la prima componente che ha fatto malinterpretare il testo. Perché? Perché se noi chiediamo anche ai nostri spettatori qui in sala, e a tutti quelli che ci stanno seguendo, di dare una definizione di Giobbe, tutti rispondono la pazienza di Giobbe. E invece, preparatevi anzi a cambiare completamente idea al riguardo. Eminenza, prima di passare alla lettura, straniero, il fatto che sia straniero non è casuale, suppongo. Cosa giunge alla narrazione? Perché uno straniero? Perché siamo in presenza di un tipo particolare di letteratura, che è la cosiddetta letteratura, così anche alcuni elementi tecnici bisogna pur conoscerli, si chiama letteratura sapienziale. Questa letteratura sapienziale, come dice la parola stessa, era destinata a decifrare il senso dell'essere e dell'esistere, il senso della vita. E l'ha fatto secondo due angolature antitetiche. Nella Bibbia noi abbiamo sette libri che sono sapienziali, nell'Antico Testamento. Anche nel Nuovo Testamento ci sono delle pagine che sono sapienziali, cioè che hanno questo, come dice la parola latina, sapienza, che non vuol dire prima di tutto sapere. Sapere in latino vuol dire prima di tutto avere sapore, cioè avere gusto, avere sensibilità, avere la capacità di perforare la superficie della realtà per penetrare nell'interno profondo, nascosto, passare sotto l'epidermine per scoprire le ossa, le midolla dell'essere umano. Ebbene, ecco, due sguardi. Lo sguardo ottimista, quello per esempio del libro dei Proverbi nella Bibbia, che vede la realtà come una realtà piacevole. Ci sono i bei paesaggi, c'è la vita nel villaggio, ci sono le arti, le professioni. C'è per esempio anche Dio che sta attento a colpire l'ingiusto. Quindi si è ottimisti. Gli fa il bene, va bene, chi è il male viene pulito. Delitto e castigo, giustizia premio. Quindi è una lettura ottimista della realtà, che ha un suo fondamento. Però evidentemente subito dopo che cosa insorge? Insorge la realtà, che non è così. Che non è come quella, per esempio, che viene presentata normalmente nella, direi, nella vulgata politica, per esempio, che devono di loro natura presentare un orizzonte che sia positivo. Noi sappiamo che invece ci sono, serpeggiano per le strade anche il male, il dolore, l'ingiustizia, la solitudine, il peccato. Ecco allora che nasce un altro orizzonte della letteratura sapienziale, che è quello, per esempio, rappresentato da Giobbe o, se si vuole, anche da Coelet, l'ecclesiaste, che dimostrano, cercano di mostrare, di sbattere in faccia alla persona che legge il dramma, il non senso anche della vita. Insomma, quella vita vera, come siamo abituati purtroppo anche a viverla oggi, perché da questo punto di vista nulla sembra essere cambiato. Piero Bernac, La Voce del Cielo. Quando un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore, anche Satana andò in mezzo all'ora a presentarsi al Signore. Il Signore disse a Satana, da dove vieni? Satana rispose al Signore, Da un giro sulla terra che ho percorsa, il Signore disse a Satana, Hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, teme Dio ed è alieno dal male. Egli è ancora saldo nella sua integrità. Tu mi hai spinto contro di lui senza ragione per rovinarlo. Satana rispose al Signore, Pelle per pelle, tutto quanto ha l'uomo è pronto a darlo per la sua vita, ma stendi un po' con la mano e toccalo nell'osso e nella carne e vedrai come ti benedirà in faccia. Il Signore disse a Satana, Eccolo nelle tue mani, soltanto risparmia la sua vita. Satana si allontanò dal Signore e colpì Giobbe con una piaga maligna dalla pianta dei piedi alla cima del capo. Giobbe prese un coccio per grattarsi e stava seduto in mezzo alla cenere. Allora sua moglie disse, Rimani ancora fermo nella tua integrità? Benedici Dio e muori. Ma egli le rispose, Come parlerebbe una stolta, tu hai parlato. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremo accettare il male? In tutto questo, Giobbe non peccò con le sue labbra. Piero, la tua è una voce di infinito. Davvero, io... Non posso non dirti grazie, in nome di tutti. Eminenza, quando si parla di un testo scoraggiante, probabilmente basterebbe soffermarsi su queste righe. Però lei ci ha già preparati che qualcosa di nuovo, di non scontato, sta per uscire dalla sua bocca. E allora ci aiuti lei? Beh, innanzitutto c'è un pregresso, noi non leggiamo tutto il racconto, tutta la famosa fiaba, la storia. Il pregresso è l'irruzione della tragedia nell'interno della famiglia di Giobbe, nell'interno dei suoi possedimenti. Attraverso un racconto molto parallelo, che si vede proprio orientale, si fa passare prima una serie di cataclismi che distruggono le tende, che distruggono il bestiame. Poi alla fine anche c'è il passaggio di razzie che entrano di predoni del deserto, che portano questo sceico alla miseria totale. E fin qui Giobbe ha il coraggio di continuare a ripetere una frase che è nel brano precedente rispetto a quello che abbiamo letto. Nudo uscì dal grembo di mia madre, nudo vi ritornerò. Dio ha dato, Dio ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Tra l'altro è curioso notare che in alcuni riti dei musulmani quando si celebra il funerale si cita questa frase, perché Giobbe è anche nel Corano. Riti musulmani. Riti musulmani al funerale Dio ha dato, Dio ha tolto, questa persona cara sia benedetto il nome del Signore. Ecco, questa è il pregresso, la premessa. A quel punto entra in scena un nuovo quadro. Siamo in quei due prologhi, si usa dire prologo in terra, è quello che noi non abbiamo letto, che ho raccontato ora, e prologo in cielo, anche nel Faust di Goethe. Imita proprio questa stessa, prendendolo da Giobbe. Giobbe è stato imitato, studiato nei secoli della letteratura, continuamente. avremo occasione durante le varie puntate che dedicheremo a Giobbe. Ebbene, ora siamo in cielo, e non so se avete notato, se hanno notato i nostri telespettatori, che c'è un personaggio accanto a Dio, Satana. Letteralmente, in ebraico, c'è il Satana, perché è una funzione, è la funzione del pubblico ministero, vuol dire l'avversario. È un cattivo? È quello che non è quindi il diavolo che pensiamo noi, è un angelo della corte divina che ha il compito di mostrare, di provare le persone per vedere, si dice, se Dio veramente, se Giobbe crede veramente in Dio per nulla. Cioè la gratuità della fede o la fede per interesse. Lui è perciò, in un certo senso, il difensore di Dio, delle ragioni di Dio contro l'uomo. E voi vedete che cerca allora, dice, è facile credere. Quando ti va tutto bene. Anche se hai perso tutto, le cose esterne. Prova a colpire la pelle. Pelle per pelle, è un proverbio. Cosa vuol dire pelle per pelle? Pelle per pelle vuol dire che se tu tocchi la pelle di una persona, tu allora, cioè la vita personale, in quel momento credere diventa un'altra cosa. Anche quando ha perso le cose esteriori può continuare a credere. Tant'è vero che anche noi usiamo la pelle per dire uno parla di pelle, a livello di pelle, oppure perdere la pelle è anche proprio segno della vita. e lo colpisce lì con questa malattia, abbiamo visto, con questa sorta di lebre, per cui diventa un emarginato, non soltanto un malato, perché viene messo nell'area delle immondizie. E lì c'è quel gesto famoso del coccio che è diventato il titolo di un romanzo, il romanzo di Bacchelli. Riccardo Bacchelli è un autore che io ho conosciuto personalmente e che il racconto ha costruito tutto il suo romanzo, avremo occasione di dirlo, sul dopo, partendo dal coccio, sul dopo, quando finisce il racconto, la cornice di cui parlavo prima e a Giobbe va tutto bene da capo. Eminenza, c'è un'altra figura, questa volta femminile, sulla quale dobbiamo soffermarci. Ci fa andare un minuto in pubblicità? Allora, torniamo subito. Il libro di Giobbe riporta in studio il Cardinal Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura. Siamo entrati nella storia, Eminenza. Siamo arrivati a un punto in cui una figura di donna, la moglie di Giobbe, viene chiamata in causa e non ci fa, tra virgolette, una bella figura, almeno da una lettura superficiale. No, la moglie anzi abbandona a un certo momento Giobbe è il suo destino, anche perché lo vede ostinato nella sua fede e c'è nell'interno della letteratura sapienziale, quella che abbiamo spiegato prima, un filone nero misogino che parte già con la figura di Eva, per esempio, che viene già interpretata in questa maniera e poi ci sono molte altre pagine che vanno in questa direzione, qualche volta anche di una durezza estrema che rivelano l'incarnazione della parola di Dio. La parola di Dio non è una realtà che decolla verso cieli mitici, vaghi, non sono teoremi di teologia, ma è anche la storia di un popolo. E c'è appunto lei che dice e tu continua a credere in Dio, anzi dice benedici Dio e poi muori. In realtà, in ebraico, non si può dire mai il verbo maledire con Dio, anche nell'arabo. E allora, in questa maniera, lei dice benedici, ma in realtà vuol dire maledici Dio e poi muori, poi si è il tuo destino. E a questo punto, ecco, proprio qui che abbiamo lo sconvolgimento radicale di quel luogo comune del job e paziente come è stato finora. Perché finora è lì, si vede persino davanti a Dio è lì prono, è pronto a ricevere tutto, è pronto persino ad avere questa pelle che si sta screpolando, che sta diventando probabilmente lebrosa. Ecco che in questo esatto crinale del racconto popolare che già esisteva, che conosciamo anche in altre letterature, che entra il grande poeta, il grande autore del libro e comincia con un urlo, l'urlo che adesso sentiamo. Piero Bernacchi Allora Giove aprì la bocca e maledisse il suo giorno, prese a dire perisca il giorno in cui nacqui e la notte in cui si disse è stato concepito un maschio, quel giorno divenga tenebra, non se ne curi Dio dall'alto, né brilli mai su di esso la luce, lo rivendichino la tenebra e l'ombra della morte, gli si stenda sopra una nube e lo renda spaventoso l'oscurarsi del giorno, quella notte se la prenda il buio, non si aggiunga ai giorni dell'anno, non entri nel conto dei mesi, ecco, quella notte sia sterile e non entri giubilo in essa, amaledicano quelli che imprecano il giorno che sono pronti a evocare le viatane, si oscurino le stelle della sua alba, aspetti la luce e non venga, ne veda le palpebre dell'aurora, poiché non mi chiuse il varco del grembo materno e non nascose l'affanno agli occhi miei, perché non sono morto fin dal seno di mia madre e non spirai appena uscito dal grembo, perché due ginocchia mi hanno accolto e due mammelle mi allattarono, così ora giacerei e avrei pace, dormirei e troverei riposo. Le parole si fanno carne con la voce di Piero Bernacchi che salutiamo e ringraziamo. Eminenza, lei per fortuna ci ha preparati, perché qui di quel job è paziente, quasi sottomesso non c'è più traccia. E pensiamo che sarà così per tutto il libro, per tutto il poema vero e proprio, questo urlo ininterrotto che tra l'altro è affidato però anche alla grandezza della poesia. Voi avete già sentito nell'interno di questi versi io proprio che riesco anche a intravedere in filigrano l'originale ebraico perché come diceva giustamente il grande Cervantes che è l'autore del Don Quixote ogni traduzione è come il rovescio di un arazzo è il rovescio di un arazzo ai fili che cadono non è come lo splendore della facciata ebbene sentendo l'ebraico che è una lingua poverissima ha soltanto 5750 vocaboli un lessico brevissimo e deve esprimere tutto il tormento della disperazione della desolazione della solitudine e qui abbiamo sentito soprattutto un tema che è terribile cioè il desiderio di non essere nato che quella notte in cui lui fu concepito fosse affidata agli esseri negativi alla notte vera quella che distrugge tutto e poi alla fine perché io sono venuto fuori dal grembo e c'era mia madre pronta col seno ad allattarmi e c'era uno che mi prendeva tra le ginocchia lei e il padre la maledizione una stessa maledizione auto maledizione sarà pronunciata da un profeta Geremia nel capitolo 20 Geremia è un fratello ideale di Giove perché ha tutte le prove la solitudine isolato maledetto eccetera e a un certo momento anche lui dice maledetto il giorno in cui nacqui maledetto il giorno in cui un uomo attraversò il cortile e andò nel gineceo dove c'erano le donne e annunciò attraversando è nato un maschio quel giorno sia come il giorno delle distruzioni delle città ecco perché Giove è direi quasi in sintonia con la Geremia e con la disperazione di infinite persone che anche oggi in questo momento meglio morire che campare in questo modo che continuare a vivere Eminenza mi correga se sbaglio però qui non se la prende con Dio o invece maledire il giorno in cui si è nati è indirettamente un modo per dire male di Dio indirettamente sì però noi avremo occasione quando cominceremo percorrere tutto questo testo di vedere che sostanzialmente Giove chiama in causa Dio lui in pratica vuole dire questo quello che è stato raccontato c'è un racconto della tradizione giudaica che è Singredale che poi è diventato un romanzo dove c'è questo personale Rahhover il quale va dal rabbino che è anche colui che dirige nel villaggio mittele europeo la corte di giustizia colui che decide i divorzi dà anche tra le persone che litigano decide quale deve essere la sentenza e così via e dice e tu perché sei qui io qui sono venuto per denunciare Dio ma come Dio sì perché lui è il mio nemico e vedremo che nell'interno del libro Giove ininterrottamente non vuole avere a che fare con i tre amici che incontreremo tre più uno che potrebbero dare un aiuto in realtà che vogliono spiegargli questo è il rischio anche tante volte dei preti dei consolatori dei teologi che vogliono spiegare tutto e purtroppo si rendono conto che a volte fanno l'effetto contrario Eminenza lei ha insistito sul cambiamento di pensiero da una parte quest'uomo felice nel pieno possesso possiamo dire anche dei suoi averi della sua felicità che loda Dio e poi questo grido di dolore la fede di quel Giove che ci viene raccontata all'inizio che fede è? ecco Giove e qui tocchiamo già un nodo dato che abbiamo davanti altri incontri potremo un nodo che è fondamentale a mio avviso ci sono tante interpretazioni sul libro di Giove ne ricorderò anche una in futuro me lo ricordi lei di ricordarla assolutamente me lo seguo che è quella psicanalitica di Jung che è veramente estremamente originale ed è estremamente lontana dal testo Giove è veramente l'anguilla non riusciamo che sfugge io sono convinto io 40 anni fa proprio esattamente 40 anni fa pubblicavo il mio commento scientifico quello scientifico a Giove mille pagine su un testo che è fatto di 3.000 e qualcosa 1.400 parole soltanto ebbene io sono convinto che il libro di Giove sia in verità un libro su Dio non sulla sofferenza umana cioè Giove prende il terreno questo terreno che abbiamo sentito adesso quello che sentiremo in futuro il terreno della disperazione dove si celebrano le apostasie più facilmente dove si nega più facilmente Dio lì e lui tenta di dimostrare Dio partendo dal male non dal bene e per questo è un libro di estrema originalità ed è un libro che spazza via le spiegazioni troppo facili quella degli amici a un certo momento agli amici dice voi siete dei raffazzonatori di menzogne voi di fronte a un dolore così profondo come il mio che è un dolore interiore anche non solo esteriore è il dolore della mancanza di alla fine quella fede che lui aveva si sta sgretolando e diventando una nuova fede una fede più pura dice voi mi avete portato qui soltanto decotti di malva Eminenza ma la presenza di Dio anche attraverso il male deve essere dimostrata noi dovremo dovremo proprio vedere questo in che maniera Giobbe che chiama in causa Dio che lo vuole convocare in giudizio lo dice esplicitamente e che poi si trova imbarazzato perché se io lo chiamo a un processo ci deve essere naturalmente un giudice certo e il giudice di solito che cos'è è superiore sia l'accusato e l'accusatore e chi è superiore a Dio ecco l'impatto allora proprio la complessità il groviglio teologico in cui lui si trova coinvolto però vedremo come il percorso si pensa il cardinal Ravasi a sbrogliarla questa matassa per onor di verità Eminenza dico che ci sono tantissime riduzioni della sua interpretazione scientifica al testo che non sono per questo meno affascinanti più divulgative più se mi permette alla nostra portata che vale veramente la pena leggere lei ritorna il 5 dicembre io vi voglio soltanto avvisare perché così prepariamo il nostro pubblico Eminenza ci ha fatto sognare anche oggi Dio la benedica grazie di cuore ecco